manca la mano d'opera nei campi cari amici manca la mano d'opera nei campi il fatto è che i lavoratori stagionali a causa del coronavirus sono tornati nelle loro patrie i lavoratori stagionali stranieri con regolare contratto però e sono rimasti soltanto i migranti irregolari quelli che sono sottopagati e sfruttati sarebbero questi lavoratori stranieri sottopagati e sfruttati sarebbero 5 o 600 mila allora gli imprenditori agricoli dicono che i raccolti stanno andando in malora per cui fanno pressione affinché venga emerso il lavoro di questi 5 o 600 mila lavoratori agricoli stranieri che lavorano in nero per cui il governo si appresta avvarare un decreto di regolarizzazione di 5 o 600 mila ma io penso anche 700 mila lavoratori agricoli stranieri che sinora hanno sempre lavorato sottopagati molto sfruttati beh sì è una cosa bella questa cari amici io ricordo il tempio siccome ho 80 anni compiuti sono nato nel febbraio del 1940 io ricordo che quando ero giovane nel secondo dopoguerra 1950-55 io avevo 10-15 anni in Italia di lavoratori stranieri non ne vedevo neanche uno neanche un nero vedevo in Italia neanche un nero nelle stalle i mungitori erano tutti italiani italiani i mungitori nelle stalle tutti italiani non erano mungitori dello Sri Lanka quelli col turbante gli indiani col turbante e così anche le arance le olive e i pomodori venivano raccolte da noi italiani noi razza pura razza ariana razza indoeuropea poi c'è stato il boom economico e piano piano noi italiani noi della razza pura razza ariana razza indoeuropea ci siamo tirati indietro dai lavori della terra e dai lavori della stalla anche se intanto arrivavano le mungitrici elettriche ci siamo tirati indietro per cui sono arrivati da lontano sono arrivati uomini migranti da lontano a lavorare per noi per raccogliere olive arance pomodori per lavorare nelle stalle perché nelle stalle noi si prende il latte il latte per fare il cappuccino al mattino al bar al bar il cappuccino il latte e e anche quei pomodori ci si fa il sugo per fare la pasta asciutta con le olive ci si fa l'olio buono con le arance ci si fanno le spremute ricche di vitamina C e però gli italiani non volevano più farle queste cose per cui sono arrivati i stranieri ma ai miei tempi non ce n'era neanche uno di stranieri di straniero in Italia chissà perché chissà perché chissà perché io ripeto quando avevo 10 15 20 25 anni di uomini neri in Italia non ho visto neanche uno neanche l'ombra di un uomo nero e non c'era il caporalato non c'era il caporalato eravamo noi italiani ma io per esempio non mi vergogno a dire che io ho fatto l'università facendo il fornaio il fornaio di notte non di giorno non quello che lo vende il pane quello che lo fa perché il pane lo si mangia di giorno ma lo si fa di notte nel forno nel forno si lavora di 5 anni ho lavorato nel forno capito per guadagnarmi un po' di soldini pagare le tasse universitarie e comprare i libri di testo ecco adesso qua leggo su un pregiato quotidiano italiano che il governo si appresta a regolarizzare 500.000 600.000 700.000 migranti stranieri che non sono per niente regolari perché finora hanno sempre lavorato in nero in nero va bene cari amici io la notizia ve la metto come linea il risultato di questo video e poi voi fatemi sapere quello che pensate quello che penso io l'ho già scritto in questa mia opera storico-mitologica va bene cari amici a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni